La bottega dei talenti, questo il titolo del progetto portato avanti da Scuola Bottega Artigiani di Brescia per sostenere i ragazzi da vari punti di vista e dando loro nuove opportunità. Il progetto Giovani Smart che porta il titolo poi della bottega dei talenti presso Scuola Bottega che ha coinvolto numerosi studenti vedrà il suo culmine per quanto riguarda le attività musicali il 22 di dicembre alle ore 10.30 fino alle 13 perché i ragazzi si manifesteranno per quello che hanno imparato. Il luogo è presso l'oratorio di Fiumicello in via Carducci 43 e lì avremo presenti, abbiamo invitato l'assessore Bolognini che è l'assessore allo sviluppo della città metropolitana e ci ha garantito la presenza l'assessore Caparini assessore regionale al bilancio, la consigliera regionale Simona Tironi e poi sono state invitate anche altre autorità il prefetto e altre autorità civili e militari. I ragazzi si manifesteranno in questa rappresentazione musicale perché hanno fatto esercitazione almeno da due mesi, hanno imparato molte cose, sono molto soddisfatti i ragazzi coinvolti sono circa 20 e in quella mattinata vedremo i loro talenti emergere. Sì, il progetto in sé avvede come capofilla a Scuola Bottega, abbiamo coinvolto l'oratorio di San Nazaro e Celso la Casa delle Donne, il Cerchio degli Uomini, il Comune di Villa Carcina e alcune cooperative, la Vela e altre cooperative importanti che adesso non ricordo. Comunque sono molto importanti i partner perché questo vuol dire che il tessuto del territorio deve essere coinvolto, non si può fare nulla da soli. Ogni partner ha un compito ben preciso. Il comune denominatore di questi partner è proprio quello di vedere questi giovani con delle motivazioni alla partecipazione dei vari progetti. Tanto è vero che uno è il laboratorio musicale, altro invece è il laboratorio del graffiti, il corso di pasticceria che vede coinvolti numerosi studenti e numerosi anche adulti. Ci sono delle iniziative che sono in corso, ci sono delle iniziative che si concluderanno ma che si inizieranno anche in primavera come il corso di fotografia che confluirà in una mostra fotografica, come altri corsi come il trekking, attività sportive, campionato di calcio e così via. Cosa vogliamo fare tutti insieme? Dare a questi giovani delle motivazioni di amore per la vita, amore per la scuola che la scuola non è soltanto le classiche materie. Noi siamo una scuola fortemente tecnica perché insegniamo ai ragazzi un lavoro e quindi insegnare loro un lavoro come insegnare loro l'uso di uno strumento musicale significa avere passione e la passione è quella che muove tutto. I ragazzi del loro canto quando si vanno a cimentare su iniziative diverse che riguardano l'aspetto scolastico si manifestano veramente per le loro reali capacità e una dimostrazione è data proprio dal fatto che scoprono in loro dei talenti che non pensavano di avere. Esattamente, si approcciano alla scuola non tanto come scuola dell'obbligo perché voi lo sapete che fino a 16 anni c'è l'obbligatorietà alla frequenza ma come scuola come base educativa per essere inseriti nella società che poi li vedrà inseriti nel mondo del lavoro ma anche nelle relazioni. Quelle relazioni che purtroppo il periodo del Covid ha interrotto che purtroppo la pandemia ha influenzato negativamente perché sembra quasi che siano stati fermi per due anni e per due anni abbiano dimenticato le regole del vivere civile. Per fortuna che non abbiamo casi eclatanti anche perché lo sportello di ascolto che soggetti del Circhio degli Uomini hanno attivato all'interno della scuola sempre in questo progetto, con lo sportello di ascolto abbiamo quasi 80 ragazzi che partecipano e frequentano lo sportello due volte alla settimana. Questi ragazzi hanno solo bisogno di essere ascoltati perché i loro problemi sono i problemi che si ripercuotono poi nella società. Non sono i problemi degli adolescenti ma sono i problemi di un'intera società che non vede che queste manifestazioni di adolescenti hanno bisogno di essere supportati, di essere ascoltati.